Ciao a tutti, per chi come me si occupa di sanità potete immaginare quanta ansia, quanta frustrazione, quanto carico di lavoro, quanti manciamenti del capo ci sono in questo periodo. Auguro a tutti un buon Natale, ma mi raccomando, stay hungry, but stay safe and stay healthy. Quindi lavorate tanto, perché ne abbiamo bisogno, ma fatelo in modo responsabile, fatelo in modo intelligente, tutelate la salute vostra e dei vostri cari. Ciao a tutti.